Da chiedersi cosa sia, come si conduca la scuola italiana, le persone che la fanno, che la costituiscono, mi sembra che ci si lamenti delle enorme quantità di alunni e alunne che interrompono gli studi della cosiddetta dispersione. Io non me ne sorprenderei, visto che sostanzialmente gli insegnanti si conducono nella direzione di disaffezionare, rendere gli alunni capaci forse, forse, di leggere e scrivere, ma del tutto odianti e disinnamorati, impossibilitati a riacquistare un qualche piacere per ciò che a loro a scuola viene insegnato, a meno che non arrivino i fortunati da una classe sociale, da un contesto culturale e familiare che già li ha resi innamorati del sapere. Io parlo di tutti gli ordini scolastici, sicuramente quello che da sempre, avendoli io frequentati quasi tutti, se non tutti, trovo più adeguato, più sensato, è naturalmente la scuola dell'infanzia, dove tendenzialmente le insegnanti sono più colte, più formate, conoscono la pedagogia, la applicano e provano veramente a, come dire, sollecitare i bambini, che arrivano anche da contesti familiari dove il livello culturale spesso non è così alto, a perequare somministrandoli realtà culturali, anche iconiche e musicali, che arrivano da una realtà di sapere appunto elevata, penso ai laboratori che ho visto fare sulle avanguardie del Novecento, su Niro, sulla musica di Stravinsky, ma in generale, ecco, per la mia frequentazione, anche abbastanza approfondita di questo universo, mi sono sovente confrontato con colleghe, direi, adeguatamente innamorate del loro lavoro. Passiamo poi alla scuola primaria, dove accade la catastrofe, perché improvvisamente i bambini da un universo in cui possono più o meno muoversi, scegliendo gli spazi abbastanza liberamente, quindi anche liberamente autodeterminarsi, si trovano bloccati, figge, incatenati, frizzati a dei tavolini, costretti a manifestarsi prioritariamente attraverso la punta secca, oscura, dura, lapidea, mortifera di una matita appuntita, spesso senza neppure morbidità, un H tremendo, capito, un 2H feroce, e guai a usare il pennarello sui quaderni, che si va sulla pagina successiva a fare una traccia, quale bellezza, quale importanza, no, vedere la propria scrittura così potente permeare la pagina, dare alla pagina successiva un valore. Già ho detto che i quaderni sono, come dire, luoghi, laboratori, dovrebbero essere condutti, con pratiche sperimentali, con tutto quel sapere che di solito le maestre non hanno, non hanno alcuna formazione, spesso anche trans loro, ma anche perché purtroppo si aderisce, si entra in quel progetto, spesso con diplomi presi molti anni fa, e adesso, sempre ancora, ci si conduce a fare in modo che i bambini si allontanino dal sapere, perché l'ordine viene mantenuto sovente minacciosamente, non si fa nulla perché l'attenzione dei bambini venga catturata con qualcosa che davvero li diverta, li interessi, ma è state zitti, è state buoni, vedrete note, cattivi voti, e poi lo spettro delle medie come universo terrifico, insomma, veramente si fa di tutto, in primis vorrei dire a tutti gli insegnanti di tutti gli ordini che la lezione cosiddetta per casa, i compiti, andrebbero fatti e vasi completamente a scuola, penso a questi poveri alunni che si muovono, sono trattenuti, bloccati in un lager, che questa è la condizione per otto ore, e poi debbano e devono assolutamente rifare la lezione a casa, i compiti, quale mancanza di cognizione della presenza attentiva, no? Che di solito dovrebbe essere una curva in un adulto 20 minuti, immaginiamoci, negli alunni più giovani, più briosi, niente si fa perché si rispetti questa curva attentiva a nulla, questa dunque quantità di compiti viene anche dopo otto ore somministrata, si dice, ah ma il sabato e la domenica, ma la si dà per il martedì, per il martedì successivo, e quindi quando viene fatta ancora, durante e dopo le otto pesantissime, bloccate, fissanti ore di scuola, sarebbe opportuno che gli insegnanti, invece di pensare, di credere, di aver fatto lezione raccontando, versando parole nelle teste, nelle orecchie degli alunni, il congiuntivo, e vai, parlano per ore, squadernano esempi, non facendo interagire gli alunni, quanto più sarebbe sensato dire agli alunni, guardate, ci sono queste due pagine, leggetele e provate poi dopo anche a ripetervele fra di voi, quando le avete lette, poi proviamo alla fine a fare un sunto, cioè fare dello studio un'attività esperienziale, cioè dare a scuola il tempo per poter anche, dopo lavori di gruppo, di coppia, individualmente studiare a scuola, non a casa, a scuola eliminare, eliminare ogni traccia di lavoro imposto a casa, e casomai somministrare, come dire, lezioni o attività così personalizzate a qualcuno, oppure diversamente proporre dei compiti che possono essere indifferentemente e liberamente svolti o non svolti a casa, ma soprattutto concentrare queste attività autonome di produzione, di interesse, di studio nelle ore scolastiche, questo dalla primaria fino al superiore, financo all'università, scusate, questo appunto vale poi per le medie, dove i professori, quasi tutti, spesso frustrati perché vorrebbero essere grandi scrittori o almeno insegnare al superiore, piuttosto che all'università, cosa fanno? si manifestano in valanghe, in profluvi di due, di tre, di quattro, a cosa servono io dico? a mantenere attivo il mercato nero della vendita, delle cosiddette ripetizioni, cioè quelle lezioni private a casa, perché questi due e tre non fanno che disamorare, disaffezionare gli alunni, le alunne, da ogni possibile relazione, anche di interesse, di passione con il sapere, non servono ad altro che allontanare, ma si sa, come ho detto, questa è una scuola che vuole pochi, pochi che possano pensare, essere critici, che abbiano un amore per la lettura, non si vuole assolutamente avere una quantità di umani pensanti, li si preferisce ignoranti, li si preferisce calciofili, li si preferisce distantissimi da ogni possibilità d'acquisizione di una passione per una delle qualsiasi materie somministrate a scuola, sia anche qui pedanti, sempre producentisi lezioni frontali, mai che si faccia fare attività di studio a scuola, e poi sempre pronti a individuare questo ovunque l'errore, qui hai sbagliato, ma valutiamo sempre invece l'impegno anche minimo che c'è stato, quanto sarebbe più importante che gli alunni, che anche poco studiano, che poi a un certo punto interrompono, venissero a scuola anche poco studianti, ma continuando a esporsi, a essere esposti a il sapere, alla scuola, a quelle pratiche di, come dire, spiegazione anche e costruzione autonoma del sapere, della cultura, questo da zero almeno a 25, 26 anni, perché meglio un alunno o un'alunna che studino poco, distratti, ma che comunque stiano nel contesto della scuola, un contesto che dovrebbe essere, come dire, innamorante, votato alla esposizione del sapere quante insegnanti anche di lingue, ah ma qui non sa queste l'inglese e il francese, e vessano e mostrano di non amare gli alunni, appunto con voti veramente in vere condi, ma scusa se io fossi un insegnante di lingua non so cosa, vorrei che gli alunni miei si innamorassero della lingua, della cultura di cui io sono stato amante e innamorato, e farei di tutto piuttosto che cassare il loro anche minimo desiderio con, ah non hai studiato, un due ti prendi e così poi vedrai, ma no, raccontagli qualche autore di quella lettura interessante, se hai studiato quella lingua avrai avuto una passione per quella lingua, per quella letteratura, che non può essere la passione che vedrai fiorire negli altri, perché magari, però prova, prova, anche se vedi l'altro distante, continua a somministrare la tua passione per quella materia, e questo anche ad alunni che non hanno voglia, non desiderano studiare o fanno fatica, e dagli almeno la possibilità di continuare a esporsi a quella tua passione, quanto più tempo possibile, tanto meglio che gli alunni anche quelli che si perdono, no, perché gli insegnanti non hanno fatto altro che, come dire, vidimare la loro condizione sociale a non emanciparsi, stessero il rapporto con la scuola, con quella che dovrebbe essere la passione degli insegnanti per la loro materia, per quella materia che si spera abbiano studiato perché era a loro di una qualche interesse, di una qualche interessata attitudine, ecco, questa attitudine dell'insegnante per ciò che insegna dovrebbe essere in qualche modo non tanto veicolata, ma almeno dall'insegnante manifestata, perché gli alunni, anche quelli che l'insegnante ritiene i più, fra virgolette, bighelloni, a quella passione sua, si sentissero fossero esposti piuttosto che alle sue lamentazioni, alle sue frustrazioni, alle sue aggressioni continue, a vidimare ciò che disfonde e a non apprezzare mai anche quel poco che l'alunno, forse perché non è stato mai aiutato, non riesce a testimoniare. E così pure al superiore farei studiare in classe, poca spiegazione, ma costruzione diffusa, spiegazione condivisa, costruita all'interno dell'aula, perché l'aula non fosse solo terreno di frontalità dell'insegnante che pensa ad aver fatto il suo lavoro una volta raccontato l'argomento da affrontare, che quello lo sa fare anche mia madre che ha fatto la quarta elementare e ha 80 anni. Credo farebbe benissimo qualsiasi tipo di attività di questo tipo, di raccontare, forse sarebbe anche più divertente perché ha una sua verga comica, ironica, che molti insegnanti spesso in nessun modo manifestano o hanno, solo pronti a dire qui non torna, ma questo lo devi rifare, ma t'avevo detto, ma se quando si confrontassero con loro stessi e dovessero rendersi conto che spesso gli alunni non ci stanno, scappano, perché quello che gli insegnanti fanno è inseguirli, perseguitarli, perché siano obbligati ad apprendere, piuttosto che l'insegnante manifestare il piacere suo medesimo per quell'argomento, tutto questo sarebbe da parte mia narrazione inutile, perché saremmo in un universo di grande sensatezza, sensatezza che ora non mi sembra rilevabile né in alcun modo apprezzabile. E lo stesso dicasi per le università, che ci si lamenta che ci sono pochi laureati e si fanno selezioni d'ingresso per facoltà dove ne entrano pochissimi, ma toglietele, ma è per i 50 euro per l'esame d'ingresso, ma allora chiedete i 50 euro, ma dismettete la pratica d'ingresso, ma mancano, 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 mancano e poi non si fa niente perché questo numero aumenti e si vuole tutti di ogni alunno che si faccia eccezionale, ma quello che dovrebbe certificare una laurea è l'essere stato esposto all'interesse dell'insegnante per quello che l'insegnante ha insegnato, per un tot numero di anni, poi dovrebbero essere dopo, se quello vogliamo, gli esami, le abilitazioni a rendere possibile, accessibile l'ingresso in una professione. So che in Inghilterra, interessanti sempre gli inglesi, d'altra parte crudeli hanno comandato il mondo, si poteva aderire, accedere a un'abilitazione con qualsiasi laurea, una mia amica ha fatto con una laurea italiana in legge ai tempi, l'esame abilitativo all'insegnamento della lingua inglese in Inghilterra, ti rendi conto che genialità, perché se io ho una competenza non deve essere interessante sapere come l'abbia conseguita, ma che l'abbia e quindi avere o non avere la laurea, cioè è rilevante, è rilevante invece che tutti siano stati esposti e presumibilmente a spese dello stato, possibilmente, a una grande quantità di appassionati al sapere e che questo sapere in qualche modo sia stato loro, come dire, raccontato, avvicinato attraverso render loro stessi attori, protagonisti di quella sapienziale passione pratica dell'insegnante che li ha in qualche modo intercettati nel loro percorso di studi, alunni e alunni, ecco, e così saper che tutti hanno attraversato una certa itinerante, itinerabile, reiterabile percorso di relazione che ha voluto, come dire, farli innamorati di una materia che hanno scelto elettiva, delezione, ma se si inizia all'elementari, a bambini che arrivano appunto da contesti di scarsa attenzione per il sapere a redorguirli, castrarli, farne purtroppo perché, come dire, ci sono queste classi differenti, ahimè, purtroppo, addirittura portatori di malattie perché incapaci di sentire una H o una doppia, ma valorizziamo la loro passione per raccontarsi, per narrarsi, che è sempre presente nei bambini, per raccontarsi graficamente, per disegnarsi, per cantarsi, per farsi numeri anche attraverso i gesti, il corpo, la coro eutica, la danza, ecco, questo valorizziamo e diamogli modo di avere anche loro intorno un'infinità di stimolazioni, quelle che hanno avuto i più fortunati, loro, compagni e compagne, che arrivano da famiglie di persone colte, erudite, facciamoli ascoltare Schoenberg, facciamoli ballare Schoenberg, facciamoli vedere Berio, facciamoli ascoltare Miró, Miró, la musica delle immagini, ma anche proponiamoli gli estremi esiti del femminismo, semplificandoli, diamo a ognuno l'occasione di essere esposto a quello a cui può essere esposto un bambino fortunato, nato in una classe colta, alta, il primo educatore è l'ambiente, certo, ma anche l'ambiente soprattutto umano al quale è esposto e quindi che senso hanno insegnanti, umilianti, castranti, che richiedono, cercano l'attenzione attraverso la minaccia, la minaccia, sembra che la scuola tutta sempre si manifesti attraverso pratiche di minaccia e di sanzione dell'errore, senza nessuna volontà di riconoscere l'impegno che arriva, ma se l'impegno non dovesse arrivare, confrontatevi con la vostra mancanza di senso quali insegnanti, ci sono classi dove si inventano patologie su errori ortografici per almeno due terzi della classe, io fossi l'insegnante di quella classe, mi guarderei allo specchio e mi interrogherei sulle mie capacità di insegnamento, certo, questo vale per ogni ordine di scuola dove si e ci si adopera per allontanare gli alunni da ogni possibile crescita generazione di passione e di interesse per lo studio, recedete dai compiti a casa, fate della scuola luogo dove gli alunni inventano, conoscono il loro modo di conoscere e di studiare, date a ognuno la possibilità di rimanere il più tempo possibile, io farei di questa un obbligo, quello della persistenza nella esposizione alla cultura, se cultura in alcuni casi sembra proprio non sia, comunque sia meglio stare a scuola che fuori, quindi fate sì che anche coloro che sembra non siano interessati siano esposti fino all'intero percorso universitario, alla cultura, al sapere, meglio se soprattutto fondamentale, non meglio, sostenuti, portati avanti da un appassionato, un amante di quello stesso sapere, quindi la scuola italiana al momento è terribile perché la situazione è proprio all'opposto, è proprio come dire mirata, direzionata ad umiliare, a vidimare l'errore, a sottrarre i bambini, gli alunni, le alunne, gli studenti, le studentesse, da ogni possibilità di accedere a una passione per quello che studiano, a meno che questa passione non sia in qualche modo a loro veicolata da qualche sporadico caso di insegnante isolato che si conduce diversamente o invece più normalmente da una famiglia che in quella passione, in quell'humus culturale li ha naturalmente fatti crescere. Allora la scuola, la scuola pubblica, tutta la scuola come obiettivo ha quello di tenere nel sapere il più a lungo possibile agli alunni, nella speranza che stando anche tangenzialmente in contatto con quel sapere siano persone più ricche di loro stessi che in quella relazione anche tangenziale non fossero stati aderendo a un progetto che non può essere in questo momento quello professionale e quindi facciamo dell'obbligo scolastico un tempo infinito e se non infinito almeno fino al conseguimento di una laurea. Saranno poi le abilitazioni a decidere se uno possa o meno debba o anche in misura esercitare una professione relativa a quel percorso di studi o a un altro, sebbene si possa pensare o per quanto si possa pensare che uno possa anche acquisire competenze individualmente per una passione sua cresciuta, eh? Competenze da certificare con esami che gli concedano di aderire a percorsi di vita a lui adeguati conseguenti alla propria relazione di senso e di passione con il sapere. Grazie.